In Calabria si guadagna meno rispetto al resto d'Italia. A dirlo l'ultima analisi dei redditi medi elaborata da ADN Kronos sulla base dei dati ufficiali diffusi dal Ministero delle Economie e della Finanza. Il divario netto salariale con le regioni del nord così aumenta e raggiunge i massimi storici. Se la Lombardia esce dalla crisi con un più 9,6% passando dai 22.540 euro del 2008 ai 24.750 del 2016, confermandosi la regione con i redditi più elevati, la Calabria invece rimane in coda con un incremento dell'1,98% e un reddito medio di 14.950 euro. Dati che vanno letti anche in relazione ad un altro aspetto preoccupante, la diminuzione delle dichiarazioni dei redditi, che in Lombardia si ferma all'1% mentre in Calabria arriva fino al 6,3%. Una maglia nera che non sembra sorprendere i tanti calabresi che decidono di cercare lavoro altrove, per migliorare la propria situazione economica, proprio in virtù di questa percezione di impoverimento. Erika Cunzolo per la Cineus 24 Grazie per la Cineus 24